Il crollo di un albero ha causato la chiusura oggi pomeriggio dell'Istonia, la strada che collega il centro di Vasto alla Riviera. A distanza di cinque giorni dal maltempo che ha provocato il crollo di una parte del muraglione dei giardini di Palazzo d'Avalos, pioggia e vento che si sono abbattuti sulla costa abruzzese, hanno spezzato un albero che è caduto sulla carreggiata colpendo di striscia un'auto in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo, che hanno provveduto a segare e rimuovere dall'asfalto i rami spezzati. Durante le operazioni di bonifica della carreggiata, la Polizia Municipale ha disposto la chiusura al traffico del tratto di via Estonia, compreso tra Piazza Verdi e l'incrocio col viadotto Estonium.